Grazie Grazie a me o te, di saluto soldare, sempre a piedi ma che di, dritta e maglia soldare, più in carino anche un po', o che sono soldare! Oggi 20 novembre è la giornata mondiale dei diritti dei bambini, noi abbiamo dritto di giocare, ha da avere una famiglia, ha da avere una istruzione e ha una salute. Noi di classe terza stiamo facendo una lettura sui dinosauri. Mi sa che stiamo studiando i dinosauri questa settimana? I dinosauri erano rettili che sono vissuti 200 milioni di anni fa. Si sono estinti 65 milioni di anni fa. Ci appassiona questo argomento. I dinosauri erano diventati anche piccoli come già stile. Alcuni erano rendevoli, altri erano molto regoli. La classe quarta si sta esercitando con il flauto e suonerà la canzone delle tre note. La classe quarta si sta esercitando con il flauto e suonerà la canzone delle tre note. La classe quarta si sta esercitando con il flauto e suonerà la canzone delle tre note. Paschile è femminile, singolare e non in plurale. Non si mette mai nella porta, può in plurale. Invece è plurale. Non c'è plurale. L'una o si è posto fa la scopo nel determinativo una quando? L'una si è posto fa quando c'è il nome femminile. I nomi comuni e il tipo treno.